Oggi vi presentiamo la Glock 17 generazione 5 prodotta dalla Umer e sui loghi ufficiali. A prima vista sembra molto simile la generazione 4 però ci sono delle belle differenze sostanziali in praticità. Come prima differenza sulla parte anteriore ne ha fatto una svasatura più accentuata per farla inserire più agevolmente nelle fondine. Un'altra differenza è lo sblocco del caricatore che è fatto ambidestro sia destra che sinistra così anche per i mancini è molto facile sganciare il carello. Sono scomparse le sagomature sul calcio che prima c'erano le sagomature per le dita così adesso si adatta più facilmente a qualsiasi tipo di mano più grande più piccola. Un'altra differenza anche qui è il fondo dell'impugnatura sembra che ci sia tipo una minigonna infatti è stata svasata la parte bassa per fare in modo anche qui di semplificare un attimo l'inserimento del caricatore ed è comparso anche questo foro alla base in modo da sfilare più agevolmente il caricatore. Questo è un ottimo prodotto da Softail, molto bella by Humane, conosciamo già le precedenti versioni quindi molto molto bella, grazie.